Lo Zodi 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario Organizziamo le vacanze insieme quest'anno, ci andiamo in vacanza io e te da veri amici No Marzali, allora, no Marzali, no Marzali Io onestamente con tutto il poco bene che ti voglio Al Quechua Village non posso venire Marzali Capisco che l'hanno fatto anche in Sardegna E tu dici dove vado, quest'anno vado in Sardegna Poi si scopre che vai appunto al Quechua Village Ma di Nuoro Hai presente Nuoro? Dai Gigi, 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 ti prego andiamo in vacanza insieme Dai quest'anno insieme Al Quechua, al Quechua Ma hanno fatto anche il Quechua Miami Ovviamente Sì, bellissimo Ma come Marzali? Lo so, è quello dove sei andato Marzali No, 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 aspetta Aspetta No Marzali, allora Marzali, parliamo di questo Quechua Village di Miami Beh lo sai che vacanze hai fatto fare questa povera donna Ma è stata benissimo Ma come è stata benissimo No, no, è stata male adesso Marzali, non facevi in tempo a mettere la camicetta sporca dentro Sai il sacchettino dove mette la roba sporca che poi te la lavano, no? Eh Nell'hotel seri Ecco lei metteva il sacchettino E immediatamente doveva volare giù almeno uno In lavanderia, lavarsene, tornare su e ritare il sacchettino pronto con la camicia stirata Ma non è vero Questa povera donna, cosa l'hai fatto vivere? Ma non è vero Capisco che l'ho ricompensato io subito rientro Però Marzali non può continuare a vivere così questa donna Ti piacerebbe farti mia moglie? Mia moglie è una bella figa No No, Marzali Cioè Non è che mi piace Io potrei ricondizionare Mi piace farmela Anche lui Basta Io ho paura Mi sa che ho preso un sacco di malattie Mi sa che ho preso un sacco di malattie